I cavatappi, storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi e il titolo della mostra è il tema delle conferenze in programma per il mese di marzo alla biblioteca della regione di via Confienza 14 a Torino. La mostra, visitabile fino al 20 aprile, propone un percorso espositivo curato dal segretario dell'associazione italiana collezionisti di cavatappi Armando Cecconi che illustra le forme più svariate, il design e la creatività di oltre 100 cavatappi. In questa collezione sono raccolti circa 150 pezzi, 150 cavatappi più una cinquantina di oggetti correlati, sono frutto di ricerche continue di mattino presso i mercatini, su internet ed è una ricerca che dura per me da 30 anni. È una cosa ritengo curiosa perché il cavatappi è un oggetto molto comune, sta in tutte le case però non sempre si pensa che dietro ci sia una storia, ci siano dei modelli, ci siano dei materiali a volte importanti come ho cercato di rappresentare in questa esposizione.